Per raccontare una storia servono un c'era una volta, il buono, il cattivo, l'aiutante e la colonna sonora. Vanity Home, soluzioni monolocali di cristallo per single su due metri quadri calpestabili. Possono che non vengono, che rilevo di prestare una merda. Tre tentativi di omicidio ad opera di una sua parente acquisita. Sento sempre tremolo, mascara, My Water Plus. Ma stiamo da... Re espressioni di entusiasmo. Mirror, mirror, on the wall. Non distinguo dove ne va, non finisci la strada. Trocca, pilocca, mamma la pacco, facci, ci. Mi piace andare a cavallo in giro per moschi, ai dai, crimonare. Strada, che percorso, 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 che percorso.